Mauro ti chiedo la valutazione su questa terza amichevole. Innanzitutto eravamo un po' ingessati, penso si sia visto, però abbiamo fatto il gol dove magari non meritavamo e dove magari meritavamo di più nelle tre occasioni del primo tempo e nel secondo tempo. Però è normale che non avendo questa lucidità dovuto ai carichi di lavoro che si sbagli qualche gol, però a me interessa che abbiano avuto questo calo fisico dovuto al fatto dei carichi di lavoro, perché è una cosa che deve essere normale. Sarei preoccupato del contrario, se avessi visto una squadra veloce, agile, l'abbiamo fatto per mezz'ora e poi ovviamente abbiamo fatto tre doppi pesanti e era una cosa normale. L'avevo anche preannunciato, quindi ho visto qualche bella trama, però tanta stanchezza, tanti errori tecnici dovuti appunto al fatto che le gambe non rispondevano al comando del cervello. Però, ripeto, sono contento e abbiamo fatto abbastanza bene, qualche goletto in più magari ci poteva stare, non abbiamo rischiato poco o niente, però da fiducia sai fare qualche gol. Mi dispiace appunto per aver fallito qualche occasione, perché fare qualche gol è sempre da fiducia, però devono stare sul pezzo e dobbiamo continuare così a lavorare bene. Adesso gli do una giornata di scarico, stasera e domani mattina, poi riprenderemo fino a venerdì dove ci presenteremo a San Damaso. Hai proposto soluzioni tattiche differenti, abbiamo visto anche il trequartista, poi sei ritornato al cinque. Sì, è la prima volta appunto che facevano il 3-4-3, non potevo chiedere ovviamente pronti via chissà cosa, però ho visto che ci siamo comunque presentati di tre, hanno fatto una bellissima azione sul colpo di tacco di Ferrari e a Rossetti che ha fatto una campanata al loro portiere, il tiro di Ferrari sull'estano della rete e nel secondo tempo quello di Spaviero, quello di Spagnoli. e qualche bella trama, dai, ripeto, un po' di lentezza perché le idee c'erano ma non erano supportate dalle gambe. Poi hai proposto giocatori anche in ruoli diversi rispetto a quello che erano state nelle altre amiche voli. Più che altro volevo vedere un attimino i ragazzi che non, tipo, ho fatto giocare a Mattioli un po' di più, però volevo vedere la coppia di due mediani, come si muovevano, ti ripeto, la prima volta è normale che succeda qualche disguido, però l'importante è che le gambe siano belle piene, intanto, perché vuol dire che abbiamo lavorato bene. Adesso, da adesso in poi, dobbiamo cercare quella brillantezza che dobbiamo mettere subito dalla prima giornata di Coppa Italia. Ti chiedo la situazione su quelli che non erano a disposizione oggi, Rabio, De Grazia, ad esempio Gagno. Sono tutti gli acciacchetti di due o tre giorni e riprendono tutti domani pomeriggio, quindi tutto a posto, è solo una precauzione. Mi dispiace non avergli fatto fare la partita, però non vado a rischiarli per fare una partita con tutto rispetto qui in montagna, quindi devono cercare di fermarsi i meno giocatori possibili, non sono fermato mai nessuno, più di due giorni, un giorno, quindi proseguiamo con questa cosa e cerchiamo di portare avanti tutti nel lavoro che è pesante e l'importante è che si fermi i meno giocatori possibili. Adesso è una settimana importante, questa è l'anticamera della Coppa Italia, dove dobbiamo cambiare un po' e acquistare quella brillantezza, quell'agilità per cercare di fare meglio. Ti sono piaciuti i due mediani? Sì, sì, prima mezz'ora abbiamo fatto bene, abbiamo girato palla bene, non avevamo tanta profondità, però abbiamo preferito tenere un po' il palleggio e abbiamo avuto tre limpide occasioni dove non le abbiamo buttate dentro, però sono contento, piano piano hanno qualità, hanno grande tecnica, pezzella delle qualità importanti, gli esterni hanno gamba, le punte stanno cercando di muoversi il meglio possibile, ma non è facile perché si conoscono anche loro da poco, quindi piano piano, piccoli passetti, piccoli progressi per cercare poi tutti insieme di trovare quella brillantezza che dovemmo avere subito dall'inizio, visto il calendario. Sul calendario ti volevo chiedere un commento, visto che hai avuto un paio di giorni per pensarci su soprattutto per la prima partita che per te è qualcosa di speciale. No, no, sono contento perché comunque le squadre affrontarle tutte, è sempre la solita fase fatta, però è stimolante, sono veramente contento di trovare queste squadre forti all'inizio perché ti dà degli stimoli in più, ti dà carica e lo stadio magari viene anche più gente e siamo tutti pronti con questo furore agonistico per cercare di affrontare nel migliore dei modi queste squadre che sono state costruite per vincere il campionato e noi dobbiamo cercare di farci trovare pronti. Oggi è la prima volta in cui in una partita non hanno segnato gli attaccanti, ti senti dire qualcosa oppure è stata una casualità? No, ma no, ma infatti sono veramente ingessati, fidati, poverini hanno fatto tanto lavoro, non si è fermato quasi nessuno di loro e quindi va bene così, sono contento di tutti, anche dei centrocampisti e dei difensori che hanno rischiato poco o niente e andiamo avanti, gli attaccanti non devono avere problemi, ci danno una mano in fase difensiva, che la voglio, fanno le due fasi, piano piano anche i giovani stanno imparando e sono contento di questo, poi se fanno voi i centrocampisti o i difensori ben venga. Ti faccio l'ultima, il giorno del raduno ci hai detto che le prime parole che avresti detto ai tuoi giocatori sarebbero stati attaccare in avanti sempre, dopo queste tre partite hai visto questo concetto, deve ancora migliorare? Sì, col 3-4 di oggi abbiamo fatto un po' più fatica, nel senso comunque nel primo tempo quando prendevamo palla comunque loro non riuscirono a fare due passaggi di fila perché noi la riprendevamo subito, era quello che avevo chiesto, cercare di ribaltare subito il fatto e portare a casa il possesso e andare in avanti, poi quando vai fuori la riprendi e riattaccare, è difficile, l'abbiamo fatto due o tre volte, ci siamo presentati davanti al portiere e non l'abbiamo messa dentro, possiamo chiedere delle cose che adesso con le gambe che hanno fanno fatica. Se io ti chiedo una piccolissima cosa sul mercato, hai detto che avresti valutato i tanti giovani che è in rosa, il DS prima ci ha confermato che per il momento si è da posto così, ti chiedo a che punto è la tua valutazione, io ti faccio alcuni nomi, Messori, Spaviero, oggi ho visto che l'hai caricato tanto dalla panchina, cercando il movimento, il passaggio. Sì, sono dei giocatori validi e di proprietà e quindi vanno aiutati e vanno cercati giornalmente di migliorare nei particolari come Duca e devono capire che in Serie C se hai poca fisicità devi giocare di intelligenza e quindi non più metterla sotto l'aspetto fisico, ma cercare di essere più bravi tecnicamente e di pensare prima alla giocata. Tutte cose che devo cercare di fargli imparare nel più breve tempo possibile.